Amici, nuova challenge di Fall Guys, si chiama in inglese tipo Last to Live, una roba del genere. Comunque dobbiamo partire per ultimi in ogni gara, in ogni round, quindi sarà molto più difficile la sfida. Nel video di oggi tra l'altro siamo in due, quindi doppio divertimento. Scrivetevi appunto al 3 challenge e iniziamo, ci saranno divertirsi. Allora, metta pronto, metta... signor T-Rex, metta pronto, la prego, bravissimo. Allora, come vi avrò detto chiaramente nella intro, cioè immagina in ogni... anche in finale cosa credi? Già che non ci arriviamo in finale... nooo... Eh, anche in finale, esattamente, dobbiamo partire per ultimi. Ce la faranno i nostri... no, non ce la faremo, non ce la faremo chiaramente. Assolutamente, è bello se ci qualifichiamo la prego. È già bello se ci qualifichiamo, però nel dubbio ci proviamo. Ora, se si popolasse con quell'una persona che manca saremmo contenti, altrimenti... Stikatz. Oh, bello, dai, questa è facile. Anche se ci partiamo per ultimi è fattibile. Ti immagini se troviamo un'altra gente che fa sta challenge e... Ti immagini... no, no, sai... Ti immagini se troviamo uno FK? Cioè, se ne troviamo... Eh, siamo morti, l'abbiamo perso. Dai, allora, quindi, lei dov'è? Eh, anch'io, vai, fermo, fermo. Fermo, fermo, fermo. Fender tutti, fender tutti. No, guarda quello! No! No, zi! Ok, si è mosso! Vai, 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 vai! Corra, corra! Dai, guarda quel pollo che ci ha fatto perdere sei giorni! Oh, guarda quanto stai brugliando, stai brugliando tantissimo, te ne rendi conto? Guarda quanto sei andato! Guarda quelli che si bloccano tutti... Eh, niente! Va bene, è la fine, eh? Salta, salta, salta! Sì, sono passato! Perché ce la facciamo? Perché ce la facciamo? Oh, mio Dio, è difficilissimo! Cioè, è difficilissimo perché partiamo per ultimo, altrimenti sarebbe strafacile come mappa. Dai, non possiamo non farcela. Non possiamo non farcela. Calcola che non devi fare errori, eh? Eh, una parolona. Guarda quello che lo sta impecchiando tantissimo le pale. No, mi sa che ho sbagliato. Eh, infatti, invece... Ah, 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 ah. Oh, Dio! Salta! Ok, devo... No! Sei stramuerto! Ho visto tutto! No, devo volare un cifo. Spostatevi, spostatevi! Sì, io sono un qualifichello in mezzo a due dinosauri, Jurassic Park. Pimimimimimi! Undicesimo! Sì! Salti, salti! Ah, mi ho qualificato anch'io! Ah! Che gol, che gol! Ok, ok, bene, bene, bene. No, stupido picciona. Ok, quindi la prima andata. Mega cheat! Oh, guarda quanti morti! Boom! Dai, ora... Ne esploduti, mammo! Dai, speriamoci capiti qualcosa di bello. Tipo, le porte. Se sono le porte è bene, in realtà. Perché tante. Ok. Vabbè, qua è in team. Esatto, è in team. Possiamo anche non partire per ultimi. Basta che vedi gli altri che si muovono. Sì, fai muovere gli altri, giusto per rimanere in tema challenge, però dai, è fattibile. Esatto, vai, fai muovere tutti. Perfetto. Adesso li guardo tutti, se rimane fermo qualcuno. Ah, è vero! Già li sono fermi, già li sono fermi. No, è vero, allora dobbiamo stare... È vero, c'è un piccione fermo. Se è mosso, vai, muoviti. Ok, bravissimo. Perfetto. Quindi non abbiamo neanche imbrogliato. Sai che volendo si può fare la tecnica di... Esatto, io sono stato colpito, ora vado a fare genocidi. Certo, ma devi fare genocidi. Sì, sì, no, ma... Eh, se lo prendessi magari sarebbe bello. Ok. Eh, no, ma dico, secondo me è una tattica migliore. Così almeno sai che li puoi picchiare tutti. Ok, hai preso un altro. Sto facendo stragi, sto facendo stragi. Te sei stato jinxato o no? No, no, io sono qui fermo che... No, mi ha mangiato ora. Cheat. Mega cheat. Dai! No! Dai, ne mancano quattro, zi. Eh, ne mancano quattro, ma ancora tutto in bilico, eh. Dai, ne ho preso uno. Oh, ne manca uno! Dov'è l'ultimo il pollo? Si spostino, si spostino. Sì, qualificati, buono. E qua ne elimina la metà, eh. Tanta roba. Low bowler mi ha dato un trofeo. Bene, bene. Già eravamo proprio al limite. Eh, esatto. E ora quanti siamo? 20? Boh, non lo so. 22? 22. Ah, ma do, ma do. Che straga, che sberla, che sberla. Bene, molto bene. Ora speriamo non ci siano le palle. Soprattutto nel team giallo. Perché le palle del team giallo, come si sa, si perde. Sostanzialmente si perde. Eeeh, ok. Va bene, va bene. Ma ti metti a stone board? Va bene, va bene. Tiptoe. Bitch. Vai, vai. Partiamo per ultimi. Facile anche questo. Stiloti. Per ora? Oh, ci sta. Ah, è vero. Esatto, quello è il dubbio. Se c'è un FK si perde. Guarda come fa lo stretching, il mio bello cicciottoso. Vai, partite tutti. Vediamo. Di mie coppie. No, zi. No, c'è qualcuno che è in un appartamento. No, signor. Ok, siamo a scuola. Ok, perfetto, perfetto. Qua è la strada di qua, eh. Dritto, dritto, palese, sinistra. Oddio, Massa, no. Va bene, va bene, va bene. Eh, dura. C'è questo gioco, non mi piace per niente. Zero proprio. Oh, sono caduto. Oddio, sono caduto, no, zizzo. Fie qua, mi spingono una cifra comunque. Eh, lo so, ma non mi piace come gioco. Difficilissimo. Eh, io so straultimo. Vai, 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 vai. No, non mi qualifico, non mi qualifico. Io sì, qualificato. No, eri quello che ha saltato. No. Oh, no. Dai. Vabbè, io ho qualificato, dai. Che sfortuna, potevamo essere entrambi in finale. Vabbè, dai. La specterò. Mi specti, mi specti. Siamo in 13. Finale a 13? Cosa può essere? L'esagono, in teoria. L'esagono. Ah, non è la finale, è il parto. Sicuro? E invece? E invece? Aaaaaa! Aaaaaa! Finale, ok. Aaaaaa! Aaaaaa! C'è mo... No, ma zino, un po'... No, non vincerò mai, perché partire per ultimo qua è impossibile. Ha perso. Però son primo, dai, quindi basta che si muovino. Dai, muovetevi. No, no, perché sei fermo. No, c'è un tipo dietro, c'è un tipo dietro. Perché sei mosso, vai, vai. Dai, ma perché è stato fermo? No, ho già perso. Già qua non devi fare errori. No, spostatevi, spostatevi. No, no, le palle, le palle. Impensabile, impensabile. No, basta, è impossibile. Oh! Basta, hai perso. No, basta, ho già perso. Dai, ma partire ultimo. Oh, è stato... Abbiamo avuto fortuna con tutto. Dai, sì! Sono un po' deconcentrato, ormai so di aver perso. Cioè, abbiamo avuto fortuna con tutti i giochi. L'ultimo... Vai, passa in mezzo, perché sennò ti sballotto una... Uh, bene! Cos'è che mi ha colpito? Non devi passare adesso. Eh, troppi. Dai, il gioco più sbagliato, infatti. Questo, impossibile. Dai, ha vinto il signor Gear, Fabu. Cosa salti? Cosa salti? Cretino! Ha portato Ginkantino. Sì. Vabbè, comunque... Oh, sono salito di livello, ho preso una corona. Vedi che erano quattro, le manche. Però, intanto, era la finale. Bitch. Allora, che mappa è? Non ci ho fatto caso, ero completamente distratto. Sto ancora piangendo dalla sconfite. Quale delle pale, ok. C'è stato un botto, possiamo imbrogliare. Esatto, vai, parti per ultimo, sempre. Fermo, fermo. Vediamo la concorre. Ecco! Sti, vanti. C'è un lupetto, un lupetto. Ok, vai, vai. Partiti, partiti, partiti. Ok, lei mi cacci l'imbroglio, che la vedo esperta nell'imbroglio. Guarda, guarda qua, guarda qua. No! Eh, niente. Parkour, parkour, niente. Vai, passa sulla sinistra. Mi hanno portato avanti, ma non ho trovato. Con quale forza fisica? Con quale forza fisica salta? Bravo, io sono già bello avanti, eh. Aia, eh, mi son bloccato. Uh, invece, invece. Comunque io non capisco quelli che passano dal centro. Ce ne passa tipo uno su cento e... Boh, continuano tutti a buttarsi. Non l'ho ancora capita sta cosa. Sì, sì. Nei bulli. Esatto, peggio per loro, meglio per me. Perché ce la facciamo? Non voglio la daccia. Oh, l'ho schivata del tempismo. Che tempismo. 7, 8, 9, sono decimo. Decimo, decimo qualificato. Te ce la fai? Guarda qua, guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Niente, Jurassic Sparks. Mi fermo lì sul bordo e faccio un po' di... Guarda, ho body shaming. Body shaming. Faccio body shaming a tutti gli altri T-Rex che vogliono entrare. Oh, ho detto nel video di prima che sarà uscito, secondo me, qualche giorno. Guarda, questi tre T-Rex cosa stanno facendo? Sì, sì. Guarda che mandria, guarda che mandria. Eh, vabbè. No, qualche video di qualche giorno fa ho detto Quelli che si fermano sul bordo sono degli infami e tu sei uno di quelli. Cioè, io sto giocando con uno di quelli. Che schifoso, che schifoso. Oh, quello della coda. Dai, ci sta anche qui. Dai, qua adesso si muovono tutti abbastanza. Si muovono tutti subito, in teoria, quindi. Ah, siamo... Ah, squadre. No, ti prego, nonne i gialli, ti prego, nonne i gialli. Spero di non aver la coda, sennò... Ok, credo che... Esatto, siano i verdi, mi sembrava di averti visto. No, la coda, io che sfiga. Io, io no. Vediamo se si muovono tutti. Sì, tutti muovono, sì, vai, vai, vai. No, c'è un... No, sì, c'è un rosso fermo dritto. Allora, aspetta che... Fermo, fermo, bravo. Dai, muoviti! Oddio! Eh, niente, ce lo devo rubare, no? Per forza. Lo odio. Guardalo. Lo andiamo a picchiare. Vuoi andare a picchiare? No, poi la challenge... Dai, andiamolo a picchiare. Ma prima la coda. Dimentichiamoci della challenge, picchiamo il rosso. Cioè, perché... Si è mosso! Vabbè, si è mosso e scappato. Dai, devo rubare la coda. Ruba la coda. Ruba la coda. Mia! Sì! Però che schifo, il team verde. Dai, scappa, scappa. No, nel senso proprio come colore, come team, un po' stupidino. Quello, ovvio. Te l'ha rubata. Oh, stia attento. Perché sono a tre i rossi. A meno che non fanno un espluà alla fine. Che mi muoiono. No, me l'ha rubata! Cinque! No, non ci credo. Supplementare. Me l'ha rubata il rosso. Sono la causa di ogni male. Ora siamo gli ultimi rubo. Dai, ma che mongolo! Rubo e scappo. Rubo e scappo. Devi fare un lavoro. Siamo a sei. Una cosa dovevo fare. Dai, siamo a sei. Non possiamo perdere. Esatto. I rossi erano destinati a morire. Dato che c'era il tipo FK. Ah, va, godo. Bravo il team, comunque. Bravo il team, bravo il team. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eh, ciao. Eh, super ciao. E' un'altra. Ok, va bene. Va bene, non è difficile perché tanto si qualificano tutti. Ah, sai, quello è bello. Quello FK è stato vinciato in studio. Eh, sì, è morto. Sì, sì, quello FK è morto. Ah, che godo, che godo. Sì, goduria. Questo qua ci sta perché possiamo partire per ultimi, tanto si qualificano tutti. Questo devi farlo tutto giusto se poi sei morto. Eh, sì, non devi sbagliare. E ci sta in realtà a partire per ultimi. Anzi, secondo me è meglio così non c'è la mambassa. Vedi, fermo, fermo. Io dico, io dico. Mossi, buono. Ora, va bene. Ora facciamone un attimo correre. Resti qua. Guarda quello quanto è imbrogliato. Eh, va bene, va bene, niente. No, no, oh, c'è un T-Rex che mi va a imbrogliare. Cosa voleva fare quel T-Rexoid? Eh, voleva... Voleva tirarmi giù nell'acido, fine. C'è questo qui che è il più difficile. Bravo, Master. Timing. Timing. Eh, occhio, eh. Occhio che ti vedo indietro. No, ma io sono quello che fa cagare in questi giochi. Non sei in grado in questo. È acido. No, sei stato acidato. No. Dai, facciamo passare il tipo. Vabbè, che pollo. Ok, schivo. Perfetto. Si qualificano in 20. Bene, bene. Che in realtà, volendo, tipo, tu puoi arrivare in finale o vincere qua. Perché volendo possono morire tutti. Qualificato come secondo. Se tu stai qui... No, 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 non voglio rischiare. Metti che poi tra un colpo e l'altro finisco io giù, mi metto a piangere. Poi finisce in tragedia. È probabile. È fatta. Non puoi fallire. Cosa può andare storto? Cioè, devo partire per ultimo. Quindi ora cado. Vedi? Ok, ora posso fare la tattichina del saltino. Ok. Vabbè, la conosceranno tutti, però. Mi taglio la strada. Sto tagliate. Ah, 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 la gola. Ok. Dai, stai qua, dai. Se lo faccia dire, lei fa schifo. Eh, ho preso in testa il colpo. Che schifoso mi ha tagliato la strada. Ah, basta, c'è un altro. Ah, e invece? E invece? E invece? Non muoio mai. Ora che... Eh, infatti. Sì. No. No, ne mancano... Oddio, ero penultimo. Cioè, secondo? No. Ma che schifo di skin. Vabbè, dai. Non ci lamentiamo. Bello questo challenge, però. Mi è piaciuta. La potremmo rifare in futuro. E mi ha dato 3,70. Buono, puliti, puliti. Quindi, spero che questo video... Consigliatevi... Consigliateci altre challenge. Nel dubbio le andremo a registrare nei prossimi giorni. Vi ringraziamo... Ringraziamo per la visione. Vi diamo appuntamento domani. A che ora? Ti ricordi a che ora domani? Andiamo a 6,7. Un quarto. Bravo, bravo. Un quarto bibi con un nuovo video. Ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie a tutti.